Toccherà ai più piccoli scolari padovani e ai loro genitori testare il ritorno in aula con le disposizioni del Ministero e dei Comuni per l'anno scolastico 2021. Martedì 1 settembre riapriranno i 18 asili nido e le 10 scuole dell'infanzia comunali. Invariato il rapporto tra educatrici e bambini che rimane di 1 a 8. Le novità saranno quelle di una maggiore attenzione per la sanificazione, per la pulizia, per l'accoglienza dei bambini che non entreranno più dallo spazio comune ma ciascuno potendo dalla propria aula, quindi dall'esterno verranno accompagnati dei genitori che naturalmente dovranno essere sottoposti anche loro alla misurazione della temperatura come i bambini. Il numero di persone che accompagneranno i piccoli all'asilo entrando dagli ingressi separati sarà il più possibile limitato e i nomi registrati e controllati periodicamente. Per rilevare la temperatura a bambini e genitori è previsto dell'altro personale. Il Comune di Padova prevede un aumento dei costi per pulizia e sanificazione del 30% ma le rette cresceranno solo del valore dell'indice Istat. Cosa succederà in queste strutture se un piccolo dovesse avere sintomi di malattia? È un protocollo che deve essere ratificato anche dall'USL e l'USL poi ci dirà che cosa dovremo fare in base anche a che cosa è stato l'esito del tampone cui sarà stato sottoposto il bambino e la famiglia.